Bounty Killer Bounty Killer Bounty Killer Peccato per lo sport in Catanzaro Lido che stiamo vedendo nelle immagini che sopra di due gol contro la Villese ha 5 minuti di sbandamento e l'11 Regino ne approfitta per parigiare e portare a casa un punto d'oro che fa classifica ma soprattutto tanto morale e portare a casa un punto d'oro che sopra di due gol e portare a casa un punto d'oro